P92, il nuovo social network decentralizzato di Meta. Buongiorno e bentornati al Caffetino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Commentiamo la notizia del mondo tech e cerchiamo di tirar fuori qualcosa di utile per noi professionisti imprenditori e perché no studenti. Abbiamo parlato settimana scorsa di Blue Sky, il nuovo social del fondatore ex amministratore delegato di Twitter Jack Dursey e oggi parliamo di una scelta molto molto simile di Mark Zuckerberg che si chiama con un nome in codice P92. Prima una notizia e un'indiscrezione e poi in realtà la conferma di questo work in progress, di questo progetto nascosto. La nota direttamente dal portavoce della società Meta sul progetto dice Stiamo sperimentando un social network decentralizzato e indipendente per condividere aggiornamenti testuali. Crediamo che uno spazio separato in cui i creatori e i personaggi pubblici siano in grado di condividere aggiornamenti puntuali a proposito dei loro interessi possa avere un'opportunità. A capo di questo progetto c'è Adam Mossè, rivolto noto di Meta e oggi capo di Instagram che tra l'altro spesso cito nei podcast perché lancia con dei video simpatici su Twitter e su altri social le novità del gruppo. Ma che cos'è per noi professionisti imprenditori e perché no studenti questa mossa? Come mai Meta sta lavorando per un social network decentralizzato? Che cosa vuol dire? Queste sono le domande che una volta che sono uscite queste notizie un po' tutti i non addetti ai lavori si fanno e persone che seguono i social sanno bene come si muove il mondo dei social media in maniera molto veloce, in maniera molto contestuale anche rispetto ad altre piattaforme. Cosa sta succedendo con questo P92? Partiamo dal contesto. Che cosa c'è all'orizzonte? C'è un mondo social media sempre più in difficoltà, non per quanto riguarda il numero di utenti attivi, per quello sempre gigantesco e più o meno stabile. Ma per la parte di monetizzazione, i dati saranno sempre più difficili da recuperare per il mondo della pubblicità, per i social media, grazie alla privacy e grazie alle comunità europee e americane che stanno cercando di limitare l'utilizzo di questi dati. E poi, chiaramente, dopo il flop del metaverso, per quanto riguarda Meta, che appunto ha cambiato nome da Facebook a Meta addirittura per la holding, si cerca un nuovo progetto. La strategia di Zack è ben definita, quella di andare a prendere un blocco di utenti in fuga da Twitter, ambiente che dopo il salvataggio economico di Elon Musk fatica a starci, un ambiente divisivo, un ambiente politico, un ambiente complicato. Questo vale per il momento 290 milioni di utenti e quindi poter stare con un prodotto, e qui arriva la decentralizzazione simile a Twitter, probabilmente le voci dicono particolarmente di testo sarà questo nuovo progetto P92 con questo nome in codice, potrebbe attrarre un pubblico di twittatori. Da Instagram, quindi, si attacca questo pezzo di social testo, questo P92, che potrebbe utilizzare, chiaramente, gli utenti senza contare, chiaramente, i 3 miliardi di account presenti sulla galassia di Facebook. Come andrà questo progetto? Non lo sappiamo. È chiaro che l'era dei social media è finita, si entra in un'altra era, l'era della micro community, un'era ancora tutta da scoprire. Non so se la decentralizzazione sarà uno dei punti più interessanti, è chiaro che si va verso un'epoca dove i nostri dati sono, sono sempre più interessanti e sempre meno possibili, ovvero quelli di terze parti, ma dobbiamo avere dati per noi, per le nostre aziende di prima parte, non tanto sulla galassia dei social. Vi terrò aggiornati sull'andamento, chiaramente, della notizia, ma vi ricordo anche e soprattutto che sono Mario Moroni. Questo è il Caffettino Podcast, come Mario Moroni mi potete trovare su Instagram, su Twitter, ovunque voi vogliate, ma anche in particolar modo su LinkedIn, uno dei miei social preferiti al momento. Fate i bravi, mangiate le verdure, buona settimana e noi ci sentiamo domani.